Le tue esperienze principali sono quelle con il clan dei camorristi e Gomorra. Mi chiedevo, ti dà fastidio che tu sia stato scelto per dei ruoli che comunque richiamano le tue origini? Non fastidio perché richiamino le tue origini, ma perché magari le tue origini condizionano le scelte di chi si occupa dei casting poi. Questo fondamentalmente è un problema a livello nazionale, in che senso? Che comunque la maggior parte dei casting, dei registi, diciamo che c'è molta poca fiducia rispetto agli altri paesi nel mondo, tipo ecco ti ripeto, ripeto sempre questa cosa, gli Stati Uniti, l'Inditerra, Francia, c'è molta poca fiducia nel lavoro dell'attore. E' così. Nel senso... Come dire, se devo fare il napoletano, chiamo un napoletano. Chiamo un napoletano, capito? Certo, certo. A meno che poi non superi quella determinata soglia dove hai dimostrato di essere dopo dieci anni un attore che è in grado di fare altre cose, allora ti tengono presente anche per altre cose, ma in altre parti del mondo non è così. E tu che vorresti fare? Per dire, cacchio, bello sto progetto, cosa ti dovrebbero proporre? Dopo, diciamo che sono sempre stato abituato, ti ho detto a questi due progetti a cui ho partecipato, ma praticamente io in due anni li ho ottenuti, perché ho avuto di studiare due anni fa e quello che ho ottenuto io in due anni non so quanti possono dire di averlo ottenuto. No, quello assolutamente, perché hai avuto dei ruoli belli. Mi ritengo infortunato, ma sono stato bravo, cioè mi ritengo bravo ad essermela procurata questa fortuna, ho lottato per arrivare fino a là, ho studiato, ho puntato sempre in alto. Bravo, penso che sia l'altro. Io puntare in alto adesso mi porta a dirti che se dovessi sognare di fare qualcosa, ti direi i progetti internazionali, ma di quelli che mi hanno cresciuto, tipo... Per esempio? ...007, o la Marvel, o il capolavoro per esempio a livello mondiale, che è uno dei miei film preferiti, tipo A Beautiful Mind, il Rusty Blue, quel tipo di personaggio, oppure... cioè quel tipo di film che dà la possibilità all'attore di esprimersi. I supereroi, quello è un sogno, sai, come tutti i ragazzini hanno... o pre-action, o James Bond, però quel tipo di cinema impegnato che ti dà la possibilità da attore di trasformarti, di dimostrare tutte le sfaccettature della tua recitazione, di quello che sei in grado di portare... di quello che sei in grado di far sentire a chi ti osserva, quella è la più grande sfida, a prescindere dal progetto. Nel futuro, vedi, commedia o dramma? Ma guarda, ti ripeto, dipende dal progetto. Quindi è differente. Sono di per certo che eviterò di fare una qualsiasi tipo di produzione inerente, la camorra, la mafia, queste cose così, perché secondo me farlo significerebbe sminuire il lavoro che ho fatto in... Bravo, ecco perché ti facevo la domanda prima.